Salve ragazzi, benvenuti alla guida numero 1 di Pokémon Platinum da Ash88 Allora, iniziamo questa nuova ROM in questo nuovo emulatore il Nintendo DS che per noi si chiama OSCBA che avrà numerose differenze con tutte le altre ROM che avevamo in precedenza infatti avremo nella parte alta dello schermo dove vedete il professor Rowan la possibilità di vedere le figure nella parte in base di interagire con un touchscreen molto divertente e la prima prova pratica è immettere il nostro nome premendo i tasti con il puntatore del mouse qui dovremmo immettere chiaramente il nostro nome personale io metto Ash88 e poi quello del nostro amico, il rivale, io lo chiamerò Fred come tutti i giochi ci ritroveremo in camera nostra dopo aver guardato un pochino la televisione arriverà Fred a distruggerci la casa appena muoviamo un passo e dopo aver controllato anche il computer e distrutto anche la televisione noi lo guardiamo esterrefatto e lo seguiamo giù per le scale appena arrivati giù troveremo nostra madre che ci darà dei consigli di non andare sull'erba alta ma chiaramente noi lo faremo perché ci piace disubbedire e la prima cosa quando usciamo e ci troviamo a due foglie sarà la visione in 3D di tutto il gioco infatti vedete le case, gli alberi e anche i personaggi sembrano un po' più realistici rispetto alle vecchie edizioni adesso noi saliamo le scale della casa di Fred che è assolutamente uguale alla nostra e niente, scapperà di sotto dicendoci di seguirlo io lo guardo sempre esterrefatto e comunque sia lo seguo giocherò con il 2x perché la rom è molto lenta e altrimenti ci metterei quasi due giorni per fare una parte quindi ho dovuto aumentare la velocità qui praticamente, niente Fred ci propone di superare l'erba alta e inizia a prendere un'anno in corsa quando arriva, vediamo se ferma all'incirca davanti all'erba alta quando arriva il professor Rowan che è il professore di questa versione rispetto alle vecchie che erano il professor Oak e il professor Birch e ci dirà di non camminare sull'erba alta senza Pokémon e riflette tra sé se regalarci un Pokémon personale chiaramente noi dovremo rispondere a due domande sempre con la risposta sì perché ci chiederà se noi amiamo molto i nostri Pokémon la risposta dovrà essere sì altrimenti se mettete nuovi continuerà a dire amate i vostri Pokémon amate i vostri Pokémon e quando, diciamo ha finito di parlare di dire tutte stronzate ci dirà bene, vi affiderò un Pokémon a testa poteva risparmiassere tutta l'altra fila dicendoci direttamente quello arriverà la sua assistente che si chiama Lusinda e porterà una valigia e noi dovremmo scegliere tre Pokémon i tre starter e chiaramente il nostro qui amico da capelli piondi ci farà scegliere a noi perché noi dovremo partire in svantaggio allora, questi sono tre Pokéball allora, il primo è Tartwig Pokémon d'erba sì, sempre Tartwig quello e Chinchar questo è Pokémon di tipo fuoco e Piplup Pokémon di tipo d'acqua io scelgo Tartwig perché mi piace di più perché non ho in mente ancora la squadra che farò e comunque sia dopo il Professor Rowan riparte per il laboratorio e riparte anche Lusinda che per ora non mi sta molto simpatica vabbè ci riscuotiamo e adesso è il momento di fare la prima vera sfida e di vedere come funzionano i tasti di questo nuovo gioco vedete? la parte in basso è completamente di touch screen noi dovremo cliccare sulla mossa con il puntatore del mouse dove sceglieremo l'attacco solo in questo caso abbiamo solo la lotta poi avremo anche la possibilità di usare strumento fuga o la scelta di cambiare Pokémon noi affrontiamo il Chinchar avversario lo sconfiggiamo riceviamo 69 punti esperienza e saliamo a livello 6 adesso dopo la piccola battaglia ci dovremo rintanare a casa nostra per curare i nostri Pokémon tutto automatico vedete nostra madre che scucina e niente ci dice di andare al laboratorio del professor Rowan a sabbia fine che è la prossima cittadina e di parlare con lui quindi ci regala automaticamente le scarpe da corsa che premendo il tasto B eh del insomma vi farà correre e questa è la nostra casa eccolo qua arriviamo al percorso 201 quando c'è il nostro amico Fred che ci aspetta e ci dice di andare a un lago molto vicino a qua per riuscire a catturare un nostro Pokémon quindi la parte sta per terminare votate commentate iscrivetevi ciao da EC88 ciao 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 ciao